Secondo gli antichi testi, in principio, non esisteva la luce nel nostro mondo. Ci fu bisogno di un uomo superforte che avvicinasse a noi il sole. Il guardiano del sole regola le stagioni, si prende cura della terra e così via. E la luna fu il suo primo guardiano a portarla qui dal mondo dei sogni. In realtà, fu lui a portarci anche i sogni. E fu così che nacque l'equilibrio tra il giorno e la notte.